Ciao a tutti, oggi un nuovo tutorial e vi presento questa colana di mia invenzione. È molto semplice da realizzare, non c'è molto da fare, infatti ci sono solo delle perle da infilare, lavorare il filo nei punti delle chiusure, quindi tecniche del cappio avvolto anche per inserire diversi componenti. I componenti che ho utilizzato sono una chiusura in argento che è molto molto bella, poi un componente in ceramica e due componenti in vetro. Non c'è molto da dire, l'unica cosa è che se decidete di riprodurre la colana vi consiglio comunque di utilizzare una bella chiusura vistosa e particolarmente definita nei particolari, perché altrimenti siccome la chiusura in questo caso è un punto centrale della colana, secondo me si noterebbe se forse di scarsa fattura. niente, non c'è molto da dire, quindi vi lascio al tutorial e ci sentiamo al prossimo video, ciao! Per realizzare questa colana avete bisogno di una chiusura che sia piuttosto vistosa, nel senso è un componente molto importante della creazione, quindi ho scelto ad esempio questa chiusura in argento che trovo veramente molto bella e che è anche molto grande, infatti se la vedete a confronto con l'altro componente che vi si oppone a livello parallelo, le dimensioni sono quelle, molto molto belle, secondo me comunque messa sul davanti, nella parte laterale fa un grande effetto, io l'ho scelta di bar, però poi naturalmente sta a voi decidere che tipo di chiusura volete, il materiale di cui volete che sia fatta, eccetera. Un componente in ceramica, io l'ho scelto vale, in queste colorazioni che richiamano l'ametista, è dipinto a mano, guardate, è veramente bello, è la seconda lavorazione che vi faccio vedere con questo tipo di componente, ma perché mi ha colpito veramente tantissimo, sono estremamente particolari, poi mi servono due perle di vetro, io almeno ho scelto queste, e in particolare queste sono lavorate al lume, sono fantastiche anche queste, sono delle colorazioni stupende, che poi richiamano molto il viola dell'ametista e quindi anche il viola del componente in ceramica. 55 perle di ametista, io le ho prese da 10 mm, vedete sono perle lisce, io precisamente ne usate 40 per il filo più lungo di perle che poi girerà intorno al collo, nella parte posteriore, e poi 15 per il lato invece che scenderà sul petto. 4 schiaccini color argento, 4 copri schiaccini, io li ho usati da 4 mm, 4 anellini da 4 mm argentati, li ho scelti, 10 distanziatori in metallo, io ho scelto questi da 5 mm perché mi piacciono molto, sono molto particolari. Del filo di nylon rivestito di rame, in particolare uso questo, da 0,35 mm di diametro, e ne prendete la lunghezza necessaria per fare la collana, nella lunghezza appunto che desiderate. Prendete il filo di metallo rivestito di nylon e ad un'estremità vi inserite uno schiaccino, in questo modo. Poi prendete un salvafilo, detto anche wire guardian, come lo chiamo io, eccolo qui, e inserite un'estremità del filo all'interno del wire guardian, dopodiché l'altra estremità la fate passare nell'altro foro e poi fate passare nuovamente il filo all'interno dello schiaccino. Naturalmente potete anche usare il french wire, che è quella molla, che ha la stessa punzione del wire guardian, soltanto che dovete tagliare la dimensione che vi è necessaria per poi poterla utilizzare. Poi prendete una pinza punta piatta, con le punte non dentellate, almeno io lo preferisco, e schiacciate lo schiaccino, tirando bene il filo, in questo modo. A questo punto io preferisco già inserire il copre schiaccino, lo prendo e lo inserisco appunto a coprire lo schiaccino, in modo che assolva la sua funzione, e poi con le pinze a punta piatta, piano piano lo modello fino a che non si chiude. Mi raccomando, con molta delicatezza, altrimenti lo deformate. A questo punto prendo uno dei distanziatori che ho scelto, a me in particolare piaceva questo per la forma particolare, e lo porto all'altra estremità del filo, vicino al copre schiaccino. Il passaggio successivo è quello di inserire sul filo tutte le varie perle di pietradura che abbiamo scelto, nel mio caso ho scelto una metista, quindi inserisco tutte le perle. Io ho inserito su questo filo 40 perle, sono tutte perle da 10 mm, quindi alla fine sono 40 cm di filo che ho utilizzato, e questa parte della collana sarà la parte posteriore, cioè quella che si troverà esattamente dietro al collo, poi ad un'estremità attaccherò la chiesura, ad un'altra estremità invece continuerò utilizzando il componente in ceramica e le perle in vetro. Quindi adesso a queste estremità inserisco un distanziatore in metallo, questo qui, poi inserisco uno schiaccino, eccolo qui, poi inserisco di nuovo il salvafilo o wear guardian e faccio ripassare le estremità all'interno dello schiaccino. Ecco qui, come vedete ho terminato le mie due estremità del filo di perle di ametista allo stesso modo. Poi prendete un pezzo di cavetto d'acciaio, diametro 0,40 va benissimo, la lunghezza deve essere abbastanza da permettervi di entrare, di inserire, diciamo, il componente in ceramica e di effettuare i due lati la tecnica del cappio avvolto. Quindi adesso effettuiamo la tecnica del cappio avvolto a queste estremità, preoccupandoci di inserire nell'asola uno dei fori di questo link in argento. In questo modo poi inseriamo sul filo un distanziatore in metallo, il componente in ceramica e poi un nuovo distanziatore in metallo. Da quest'altra parte, nuovamente facciamo la tecnica del cappio avvolto e ci preoccupiamo di inserire l'asola del cappio all'interno del foro. Naturalmente il foro in cui scegliete di inserire l'asola dipende dalla posizione che volete dare al link, se lo volete in questa posizione, infiliate in questo foro, se lo volete in una posizione inversa, foro inverso. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento, soltanto che utilizziamo la perla in vetro, quindi prendiamo sempre un pezzo di cavetto d'acciaio, ad un'estremità adesso facciamo direttamente un nodino ad orefice, senza inserire questo nodino da nessuna parte, poi sul filo ho nuovamente inserito un distanziatore, la perla in vetro, un altro distanziatore e a quest'altra estremità nuovamente la tecnica del cappio avvolto, però infilerò la soletta all'interno di questo foro, di questo link, in modo che la sfera di vetro e il componente in ceramica risultino legati tra loro. Ecco qui, come vedete ho agganciato la perla e adesso effetto lo stesso passaggio anche all'altra estremità del componente in ceramica. Ecco qui, come vedete ho terminato questa sezione, adesso prendo un anellino, io non ho sprendendo un nodo a 4 mm, però anche qui la dimensione a vostra scelta, lo apro e unisco l'asola del cappio avvolto vicino alla perla in vetro con il salvafilo che è attaccato alle perle di ametista. Ecco fatto, adesso dall'altra estremità dell'ametista devo agganciare la chiusura, quindi prenderò la parte T-bar, io inizio con questa della chiusura e aggancerò con un anellino la chiusura al salvafilo, in questo modo. Adesso devo realizzare la parte davanti della collana, quindi cosa devo fare? Realizzare un nuovo filo di perle di ametista della lunghezza che desideriamo, sempre in base alla lunghezza della collana che vogliamo realizzare e agganceremo poi questo filo di perle di ametista da un'estremità alla sfera di vetro, all'altra estremità invece applicheremo l'altra parte della chiusura. Ecco qui, ho realizzato l'altra parte della collana con le perle di ametista, adesso con degli anellini sempre da 4 mm argentati unirò da una parte il salvafilo con l'asola della perla di vetro e dall'altra parte invece l'anellino aggancerà sempre il salvafilo però con questa volta la chiusura. E questa è la collana terminata. E' così, questa è la collana terminata, spero che vi sia piaciuta, se avete ulteriori consigli, commenti, volete dirmi cosa ne pensate, lasciate commenti, mi fa sempre piacere e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!